Tragedia in una villetta bifamiliare all'altezza del ponte cesano tra Marotta e Senigallia dove Marco Rossetti poco dopo le ore 19 forse in seguito ad un litigio ha impugnato un'arma e freddato Ornella, la madre di 87 anni che si trovava sul terrazzo seduta su una sedia. L'uomo 51enne con vari problemi psichici dopo il folle gesto si è barricato per alcune ore nella villetta per poi togliersi la vita sparandosi un colpo. A lanciare l'allarme è stato il fratello dell'uomo, sul posto i carabinieri, la polizia di stato e la polizia locale che per ragioni di sicurezza ha chiuso al traffico le strade vicino alla villetta. Sul luogo dell'omicidio suicidio anche l'eliambulanza che dopo alcuni minuti e dopo la notizia della morte del 51enne è ripartita. Secondo una prima ricostruzione Marco Rossetti aveva vari problemi alle spalle, era seguito dal servizio di igiene mentale da tempo ma circolava con una pistola nonostante la revoca del porto d'armi avvenuta circa due anni fa a causa dei gravi problemi psichici. Quello di ieri, lunedì 17 giugno, è stato un pomeriggio di angoscia tra Seniglia e Marotta. Le forze dell'ordine dovranno fare luce sulla vicenda, chiarendo anche e soprattutto il movente di una tragedia che ha sconvolto l'intera frazione.